I Miserabili di Victor Hugo Jean Valjean stette in ascolto. Nessun rumore. Spinse l'uscio. Lo spinse con la punta del dito, leggermente, con la delicatezza furtiva e inquieta del gatto che vuole entrare. L'uscio cede alla pressione e fece un movimento impercettibile e silenzioso che allargò un po' l'apertura. L'uscio aspettò un momento, poi spinse di nuovo l'uscio più arditamente. L'uscio continuò a cedere senza rumore. Ora l'apertura era abbastanza grande perché lui potesse passare, ma c'era vicino all'uscio una tavolina che formava con esso un angolo fastidioso e che chiudeva il passaggio. Jean Valjean s'avvide della difficoltà. Era necessario a qualsiasi costo che l'apertura fosse allargata di più. Si decise e spinse per la terza volta l'uscio, più energicamente delle due altre volte. Questa volta un cardine male oliato mandò d'un tratto nel buio un grido rauco e prolungato. Jean Valjean trasalì. Il rumore di quel cardine risuonò nelle sue orecchie con un chedi squillante e di terribile, come la tromba del giudizio finale. Nelle esagerazioni fantastiche del primo momento quasi si immaginò che quel cardine si fosse animato e avesse assunto d'un tratto una vita terribile e che abbaiasse come un cane per avvertire tutti quanti e svegliare dormienti. Si fermò, rabbrividendo, smarrito, e cadde dalla punta dei piedi sui calcagni. Si sentiva le arterie battere nelle tempie come due martelli da fucina e gli sembrava che il respiro gli uscisse dal petto col cuore del vento che esce da una caverna. Gli pareva impossibile che l'orrendo clamore di quel cardine irritato non avesse fatto tremare tutta la casa come una scossa di terremoto. L'uscita, da lui spinto, si era spaventato e aveva chiamato. Il vecchio si sarebbe alzato, le due vecchie donne avrebbero gridato, sarebbe corsa gente. Prima di un quarto d'ora la città sarebbe stata rumore e la gendarmeria in moto. Per un attimo si credette perduto. Restò fermo dove era, impietrito come la statua di sale, senza ardire di muoversi. Trascorse qualche minuto. L'uscio si era spalancato. Si arrischiò a guardare nella camera. Nulla si era mosso. Tese l'orecchio. Nessun movimento in casa. Il rumore del cardine arrugginito non aveva destato nessuno. Quel primo pericolo era passato, ma restava ancora dentro di lui un tumulto spaventoso. Tuttavia non indietreggiò. Anche quando si era visto perduto non aveva indietreggiato. Decise di farla finita alla svelta. Fece un passo, entrò nella camera. Quella camera era in una calma completa. Si distinguevano qua e là forme vaghe e confuse che di giorno erano le carte sparpagliate su una tavola, gli in folio aperti, i volumi ammucchiati su uno sgabbello, una poltrona piena di abiti, un inginocchiatoio, e che a quell'ora apparivano come recessi tenebrosi e spazi biancastri. Jean Valjean avanzò con precauzione, evitando di urtare i mobili. Udiva in fondo alla camera il respiro uguale e tranquillo del vescovo addormentato. D'un tratto si fermò. Era vicino al letto. Mi era giunto più presto di quanto avesse creduto. Talvolta la natura frammischia alle nostre azioni, i suoi effetti e i suoi spettacoli con una specie di opportunità cupa e intelligente, come se volesse farci riflettere. Da oltre una mezz'ora una grande nuvola copriva il cielo. Nel momento in cui Jean Valjean si fermò davanti al letto, la nube si squarciò, come se l'avesse fatto di proposito, e un raggio di luna, attraversando l'alta finestra, giunse improvvisamente a illuminare il viso pallido del vescovo. Egli dormiva tranquillamente. Stava a letto quasi vestito, a causa delle notti fredde, delle basse alpi, con una veste di lana bruna che gli copriva le braccia fino ai pugni. La sua testa era rovesciata sul guanciale nell'atteggiamento abbandonato del riposo. Lasciava penzolare fuori del letto la mano ornata dell'anello pastorale, dalla quale erano cadute tante buone opere e tante azioni sante. Tutto il suo viso era illuminato da una vaga espressione di soddisfazione, di speranza e di beatitudine. Era più di un sorriso e quasi una irradiazione. C'era sulla sua fronte il riverbero inesprimibile di una luce che non si vedeva. L'anima dei giusti durante il sonno contempla un cielo misterioso. Un riflesso di quel cielo era sul vescovo e nello stesso tempo era una trasparenza luminosa perché quel cielo era dentro di lui. Quel cielo era la sua coscienza. Nel momento in cui il raggio di luna giunse a sovrapporsi, per così dire, a quella luce interiore, il vescovo addormentato apparve come in una gloria, che tuttavia rimase dolce e velata da una penombra ineffabile. Quella luna nel cielo, quella natura assopita, quel giardino senza un brivido, quella casa tanto calma, l'ora, il momento, il silenzio, aggiungevano un non so che di solenne e di indicibile al venerabile riposo di quel saggio e avvolgevano ad una specie di aureola maestosa e serena quei capelli bianchi, quegli occhi chiusi, quel volto dove tutto era speranza e dove tutto era fiducia, quella testa di vecchio e quel sonno di fanciullo. C'era qualcosa della divinità in quell'uomo così augusto e a sua insaputa. Jean Valjean era invece nell'ombra, con un candeliere di ferro in mano, ritto, impaurito da quel vecchio luminoso. Non aveva mai visto nulla di simile. Quella fiducia lo spaventava. Nel mondo morale non c'è più grande spettacolo di questo, una coscienza torbida e inquieta, giunta sul limitare ad una cattiva azione che contempla il sonno di un giusto. Quel sonno, in quel isolamento e con un vicino come lui, aveva qualcosa di sublime che egli sentiva vagamente ma imperiosamente. Nessuno avrebbe potuto dire quello che accadeva in lui, nemmeno lui stesso. Per cercare di comprenderlo bisogna immaginarsi ciò che diede più violento alla presenza di ciò che diede più dolce. Sul suo stesso viso non si sarebbe potuto distinguere nulla con certezza. Era una specie di stupore selvaggio. Guardava, ecco tutto. Ma qual era il suo pensiero? Sarebbe stato impossibile indovinarlo. Era evidente che era commosso e sconvolto. Ma di qual natura era quella commozione? Il suo occhio non si staccava dal vecchio. L'unica cosa che si distinguesse chiaramente nel suo atteggiamento e nella sua fisionomia era una strana indecisione. Si sarebbe detto che esitasse fra i due abissi. Quello nel quale ci si perde e quello nel quale ci si salva. Pareva pronto a spezzare quel cranio o a baciare quella mano. In capo a qualche istante il suo braccio sinistro si alzò lentamente verso la sua fronte. Ne tolse il berretto, poi il braccio ricadde con la stessa lentezza e Jean Valjean tornò nella sua contemplazione col berretto nella mano sinistra, la mazza nella mano destra, i capelli ritti sulla testa selvaggia. Il vescovo seguitava a dormire in una pace profonda sotto quello sguardo terribile. Un riflesso di luna faceva scorgere confusamente sopra il caminetto un croce fisso che pareva aprisse le braccia a tutti e due con una benedizione per l'uno e un perdono per l'altro. D'un tratto, Jean Valjean, si rimise in testa il berretto, poi si avanzò rapidamente lungo il letto senza guardare il vescovo ritto verso l'armadio a muro che intravedeva vicino al capezzale. Alzò il candeliere di ferro come per forzare la serratura, la chiave era a posto, aperse. La prima cosa che apparve fu il paniere dell'argenteria. Lo prese attraverso la camera a grandi passi senza precauzione e senza curarsi del rumore. Arrivò alla porta, tornò nell'oratorio, aperse la finestra, prese un bastone, scava il coltto avanzale del pian terreno, ficcò l'argenteria nello zaino, buttò via il paniere attraverso il giardino, saltò oltre il muro come una tigre e fuggì. Il giorno seguente, allo spuntar del sole, Monsignor Benvenu passeggiava nel giardino. Madame Magloire accorse verso di lui tutta sconvolta. Monsignore, Monsignore, gridò, vostra grandezza sa dove sia il paniere dell'argenteria. Sì, disse il vescovo. Il signore Gesù sia benedetto, dissella, non sapevo dove fosse andata a finire. Il vescovo aveva raccolto il paniere in un'aiola. Lo porse a Madame Magloire. Eccolo, ma come, dissella, non c'è nulla dentro, è l'argenteria. Ah, replicò il vescovo, dunque vi preoccupate dell'argenteria? Non so dove sia. Grandio, l'hanno rubata, è stato l'uomo di ieri sera che l'ha rubata. In un batter d'occhio, con tutta la sua velocità di vecchia arzilla, Madame Magloire corse all'oratorio, entrò nell'alcova e tornò dal vescovo. Il vescovo si era chinato e considerava sospirando una pianta di coclearia dei goulons che il paniere aveva rotto cadendo sull'aiola. Si alzò al grido di Madame Magloire. Monsignore, quell'uomo se n'è andato, l'argenteria è stata rubata. Per mandare questa esclamazione, i suoi occhi caddero su un angolo del giardino dove si vedevano le tracce di una scalata. La copertura del muro era stata portata via. Guardate, se n'è andato da quella parte, è saltato nel vicolo. Cocheflet, ah, che orrore, ci ha rubato l'argenteria. Il vescovo restò silenzioso un momento, poi levo il suo sguardo serio e disse a Madame Magloire dolcemente. Anzitutto, era nostra quell'argenteria? Madame Magloire rimase interdetta. Vi fu un'altra pausa, poi il vescovo seguitò. Madame Magloire, io vi tenevo a torto e da parecchio tempo quell'argenteria. Essa apparteneva ai poveri. Chi era quell'uomo? Evidentemente un povero. Ahimè Gesù, riprese Madame Magloire, non è per me. Per noi fa lo stesso, ma è per Monsignore. Come farà ora Monsignore per mangiare? Il vescovo la guardò con aria stupita. Ah, questa è bella, non esistono le posate di stagno? Madame Magloire alzò le spalle. Lo stagno manda un certo odore. Allora posate di ferro. Madame Magloire Magloire fece una smorfia significativa. Il ferro ha un certo sapore. Ebbene, disse il vescovo, allora posate di legno. Qualche momento dopo faceva colazione alla medesima tavola dove Jean Valjean si era seduto la sera prima. Mangiando, Monsignore benvenu, faceva allegramente notare a sua sorella, la quale non diceva nulla, e a Madame Magloire che borbottava tra i denti, che non c'è nessun bisogno di un cucchiaio o di una forchetta, neppure di legno, per inzuppare un pezzo di pane in una tazza di latte. Belle idee, diceva tra sé Madame Magloire, andando e venendo. Farsi venire in casa un uomo come quello e metterselo a dormire accanto. È fortuna che ci sia contentato di rubare. Ah, mio Dio, c'è da rabbrividire a pensarci. Nel momento che il fratello e la sorella si stavano per levar di tavola, bussarono alla porta. Avanti, disse il vescovo. Si aperse la porta. Apparve sulla soglia un gruppo strano e violento. Tre uomini. Ne reggevano un quarto per il bavero. I tre uomini erano gendarmi. L'altro era Jean Valjean. Un brigadiere dei gendarmi, che pareva a capo del gruppo, era vicino alla porta. Entrò e andò verso il vescovo, facendo il saluto militare. Monsignore, disse. A quella parola Jean Valjean, che era tetro e sembrava abbattuto, alzò la testa con aria meravigliata. Monsignore, mormorò. Dunque non è il parroco? Silenzio, disse un gendarme. È Monsignor Vescovo. Intanto Monsignor Benvenu si era avvicinato con quanta prontezza gli consentiva la sua tarta età. Ah, eccovi, esclamò guardando Jean Valjean. Sono contento di vedervi. Come sarebbe? Vi avevo dato anche i candelieri, che sono d'argento, come il resto, e dai quali potete ricavare duecento franchi. Perché non li avete presi insieme con le posate? Jean Valjean sgranò gli occhi e guardò il venerabile vescovo con un'espressione che nessuna lingua umana potrebbe descrivere. Monsignore, disse il brigadiere di ingertarmi. Dunque era vero quel che diceva quest'uomo. L'abbiamo incontrato. Se ne andava come uno che scappi. L'abbiamo fermato per vedere. Aveva questa argenteria. E vi ha detto, interruppe sorridendo il vescovo, che gli era stata data da un brauomo di prete presso il quale aveva passato la notte. Ora capisco. E voi l'avete riportato qui. È un errore. Dunque, riprese il brigadiere, possiamo lasciarla andare? Senza dubbio, risposa il vescovo. I gendarmi lasciarono Jean Valjean, che indietreggiò. È vero che mi lasciano libero? Disse con voce quasi indistinta, come se parlasse nel sonno. Sì, sei libero, non capisci? Disse un gendarme. Amico mio, disse il vescovo, prima di andarvene ecco qua i vostri candelieri, prendeteli. Andò al caminetto, prese due candelieri d'argento e riportò a Jean Valjean. Le due donne lo guardavano senza una parola, senza un gesto, senza uno sguardo che potessero disturbare il vescovo. Jean Valjean tremava in tutte le membra, prese due candelieri automaticamente e con aria stravolta. Ora, disse il vescovo, andatevene in pace. A proposito, quando tornerete, amico mio, è inutile passare dal giardino. Potete sempre entrare e uscire dalla porta della strada. È chiuso soltanto col saliscendi, giorno e notte. Poi voltandosi verso i gendarmi. Signori, potete ritirarvi. I gendarmi se ne andarono. Jean Valjean era come uno che stia sul punto di svenire. Il vescovo gli si avvicinò e gli disse sotto voce, non dimenticatevi, non dimenticatevi mai che mi avete promesso di usare quel denaro per diventare un onest uomo. Jean Valjean, che non si ricordava di aver promesso nulla, restò sconcertato. Il vescovo aveva calcato su quelle parole mentre le pronunciava. Continuò con una specie di solennità. Jean Valjean, fratello mio, voi non appartenete più al male, ma al bene. Compro la vostra anima, la tolgo dai pensieri neri e allo spirito di perdizione e la do a Dio.